La festa danzante è una manifestazione, un evento nazionale promosso da Rezo, Rete Danza Svizzera, come obiettivo è quello di diffondere la danza in qualsiasi luogo, sui palchi, sulla strada, dappertutto, in qualsiasi tipo di danza e di coinvolgere anche tutto il pubblico, non solo professionisti o non solo amatoriali, ma proprio tutti. In Svizzera esiste nel 12 anni, è partita prima nel 2006 con una festa danzante, un tipo di festa danzante a Zurigo, poi dopo è diventata festa nazionale, cioè festa dentro la Svizzera e coinvolge una trentina di comuni e città in tutta la Svizzera. La Boschiamo è la sesta edizione, la facciamo e vediamo che ogni anno prende sempre più piede, che la gente proprio aspetta anche la festa danzante e questo ci fa naturalmente molto molto piacere. Quest'anno è un'edizione molto ricca perché abbiamo anche produzioni proprie abbastanza grandi, quindi oltre alle solite performance in piazza e i corsi che abbiamo sempre fatto, abbiamo fatto uno spettacolo integrativo con utenti, operatori e volontari e due ballerine con utenti dell'incontro. La sera, quest'anno, avremo uno spettacolo itinerante che comprende in tutto, diciamo, cinque atti, che inizia in deposito di Poschiavo e poi dopo il pubblico si sposta per vedere le altre tre performance per poi tornare in deposito per l'atto finale e sarà seguito da una festa. Il popolo rispose, se ti dico che la città a cui tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel tempo, ora più rara e ora più densa, tu non devi credere che si possa smettere di cercarla.